Buongiorno, io proverò a rispondere a quanto ci diceva come spunti Luca Martinelli, anche provando un po' a fare un passaggio da quanto abbiamo sentito questa mattina invece della riflessione comune che dobbiamo portare avanti in questa tavola rotonda. Intanto parto da una cosa che ha detto Damiano Di Simine, ossia noi dobbiamo anche avere bene la percezione di quanto in questi dieci anni siamo riusciti a fare, perché non era scontato dieci anni fa che una parola come consumo di suolo entrasse nel vocabolario comune, nel vocabolario appunto dei media, della politica, non era affatto scontato, anzi ci fu uno scontro anche accademico-culturale, non banale, perché appunto non veniva accettato questo tipo di approccio ai temi del territorio, veniva considerato una banalizzazione, veniva considerato qualcosa che in qualche modo andava a ridurre anche la complessità, però noi ambientalisti volevamo far capire che c'era una questione che andava insomma al di là di alcune letture e in questi dieci anni qualcosa siamo riusciti a ottenere, perché siamo riusciti a far passare l'idea che la quantità di aree trasformate, proprio perché incide sugli ecosistemi e poi indirettamente quindi sul paesaggio, il territorio, in modo in cui si vive il territorio, è una questione reale, non è una questione appunto da lasciare ai piani, da lasciare a un dibattito di alcuni, è una questione che poi riguarda ognuno di noi, perché riguarda poi le forme con cui si vive nei territori, ha delle rilevanti conseguenze. Quindi in questi dieci anni abbiamo ottenuto qualcosa, aggiungo che abbiamo anche ottenuto un cambiamento perché all'inizio noi facevamo delle indagini anche un po' originali e spesso appunto sempre criticate da chi è molto attento alle forme anche del racconto territoriale, delle carte eccetera, per far capire questi numeri. Oggi l'ISPRA appunto ha pubblicato qualche giorno fa il suo rapporto che è stato ripresentato questa mattina, insomma abbiamo chi si occupa anche nel paese di monitorare tutto questo. Cos'è che dobbiamo fare ancora? Perché poi c'è una sfida molto grande, quella di riuscire a far passare un cambiamento culturale, che è quello per cui questi temi poi entrano nelle politiche e quindi sono non solo quantificati e considerati, ma poi entrano poi trasversamente, quindi si vanno a occupare a quel punto di territorio, di paesaggio e delle forme con cui appunto viene governato il territorio. Su questo siamo ancora un passo indietro. Nel senso che qualcosa si sta muovendo, non era in fondo affatto scontato che malgrado la diciamo la mediocre situazione appunto la squali, la situazione del dibattito a livello nazionale, perché in Parlamento sono più di 400 giorni che non si muove nulla al Senato e quindi appunto avevamo fatto bene noi come task force appunto abbiamo messo insieme per raccogliere le firme, a raccogliere quelle firme anche in Italia appunto, e anche io ribadisco l'invito a firmare qui fuori online, insomma per avere una direttiva europea sul consumo di suolo, noi dobbiamo continuare la pressione, però non era scontato appunto che si mettesse in moto qualche cosa in Parlamento anche se purtroppo si è arenato e che si mettesse in moto qualche cosa in quelle che sono diciamo le regioni che più hanno consumato suolo in questo paese, perché appunto Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, dopo appunto invece delle esperienze positive di pianificazione del paesaggio in altre regioni italiane, in queste tre regioni però cos'è che si evidenzia? Si evidenzia un approccio inadeguato rispetto a queste sfide, credo che dobbiamo anche avercelo in qualche modo tutti noi chiaro, anche negli stimoli che vogliamo dare come associazione rispetto a quello che è necessario per mettere questo tema a centra attenzione, ma poi anche cambiare la situazione anche per tutti gli impatti e rischi che ci sono dentro appunto lo scenario che Muna Forcia ha fatto vedere questa mattina. Ci sono dei limiti nell'approccio, perché appunto l'approccio è quello di dire salviamo quello che c'è, poi sul dopo mettiamo delle percentuali o delle cose che poi magari rivedremo, e poi c'è sempre qualche eccezione, e poi la rigenerazione rimane una parola vuota, perché in tutte queste leggi in realtà il cambio culturale, cioè quello per cui si deve ripensare il territorio in cui viviamo, in realtà è molto poco approfondito, è molto poco presentato anche come visione di cambiamento nel modo in cui vivere il nostro territorio, la nostra città, è molto più un semplificare le forme degli interventi all'interno appunto di quei perimetri. Allora è questa una sfida culturale che noi dobbiamo avere ben presenti, lo dico come ambientalisti perché noi ora dobbiamo farci capire nel modo in cui dobbiamo far cambiare le forme di intervento nel territorio italiano per far ripartire l'edilizia in Italia, perché l'edilizia è il settore diciamo del italiano che ha più sofferto la crisi ed è l'unico che non è proprio non dà cenni di ripresa, e per far ripartire l'edilizia in Italia dobbiamo farlo però ripartire in modo diverso rispetto alle forme che abbiamo visto in questi decenni appunto raccontati questa mattina, perché quello che dobbiamo far capire noi è che ci sono una serie di scelte, su questo poi chiudo, che vanno prese assieme, cioè bisogna dare un'idea di questo cambiamento culturale che poi deve essere anche in qualche modo comprensibile per le persone. intanto appunto far capire che saranno delle scelte coraggiose, saranno delle scelte coraggiose nel termine di stop al consumo di suolo e quindi non solo promesse e poi però tutta una serie di sotterfuggi e una sorta di condono sulle previsioni dei piani esistenti, perché appunto arriviamo a dei numeri che non hanno alcun senso rispetto a quello che sta succedendo in questo paese, però poi dobbiamo anche essere capaci di far capire che non basta una riga rossa e dire appunto al di là di questo non si può andare. Bisogna anche capire qual è l'idea di città e di territorio che vogliamo rimettere in gioco, facendo capire appunto che in questo cambiamento si affrontano diverse questioni, c'è un intreccio dei temi che poi sono alla base della crisi che sta vivendo il nostro paese e che la rigenerazione, la riqualificazione su cui oramai tutti sono d'accordo, per cui sta in tutte le leggi che ho citato prima, non è la semplificazione degli interventi nelle aree dismesse, come purtroppo abbiamo visto in questi anni. È qualche cosa di più complesso e anche di più ambizioso, perché se ci limitiamo a questo, insomma, si fa in alcune città in cui il valore dei suoli è molto rilevante e poi per il resto, come dire, pazienza. Noi dobbiamo occuparci della crisi della nostra città che è data dalla somma di tante case vuote e tante persone che cercano una casa e qui sta la sfida che sta anche dentro il dibattito che dobbiamo spingere sul consumo di suolo. Cioè noi dobbiamo dare una risposta a dei temi che sono reali, percepiti dalle persone. È per quello che poi noi, anche io come legamenti, ci siamo concentrati anche nella legge nazionale, ma anche nelle leggi regionali a porre sempre una questione. Il primo punto dovrebbe essere quello di un censimento obbligatorio di tutte le aree e gli edifici dismessi, non utilizzati, pazientemente utilizzati, eccetera. Come dire, come precondizioni di qualsiasi intervento, perché tu devi ripartire da lì, perché la vergogna delle nostre città sta qui, nel degrado che c'è in tanti parti, negli edifici che appunto costruiti in questi anni ancora vuoti e che non si riescono a rimettere in gioco, perché è troppo complicato. Insomma, su questo c'è una sfida anche culturale che appunto, e questi sono gli stimoli che dobbiamo dare noi come ambientalisti e poi l'Accademia. Su questo serve un cambio della fiscalità, questo sarebbe l'altro punto fondamentale di una legge nazionale, perché la fiscalità se ne può occupare solo appunto il livello nazionale in maniera appunto netta, e poi sapere appunto che bisogna ripensare gli edifici e le città. Questo è l'altro tema appunto sfidante, per riuscire a fermare davvero il consumo di suolo. È un qualche cosa che vuol dire anche cambiare anche le forme di intervento nella città. Però non basta dire, appunto, io semplifico, cito la legge dell'Emilia Romagna, secondo noi del tutto inadeguata, perché da un lato parla di stop al consumo di suolo e di rigenerazione, però stop al consumo di suolo è fatto con tutta una serie di deroghe, per cui qualsiasi cosa viene definito strategico, poi può andare oltre quei numeri, e dall'altra la rigenerazione è una parola del tutto vuota, per cui tu puoi fare degli edifici orrendi, dei quartieri orrendi, pieni di parcheggi, di maglia, eccetera, senza concorsi, senza qualità, senza niente. Puoi fare tutto quello che... cioè il brutto che hai costruito in periferia in questi anni, lo puoi fare all'interno della città. È qui il problema, perché noi dobbiamo anche, invece, stabilire che da ora in avanti nella città, invece, bisogna fare altro. Bisogna, appunto, non occupare le aree libere, ma ripensare anche gli edifici, ripensare gli spazi, portare anche case di inizia popolare, portare vere, ripensare lo spazio, non avere più macchine dentro la città. Cioè queste sono cose che noi dobbiamo fissare, non lasciare la libertà di qualcuno in modo che qualcun altro possa fare una cosa diversa, è che la pressione... su questo c'è una sfida culturale, né ripensare il patrimonio edilizio, in termini, appunto, energetici, antisismici, eccetera, che non si vede in queste leggi, né si vede nel modo in cui ripensare i spazi di inizia. Parlo di queste cose che sono molto concrete, perché penso che poi la sfida che abbiamo di fronte è quella di insistere su questi temi, insistere nei numeri, nel far capire quello che continua ad andare avanti, insomma, malgrado la crisi, ma poi dobbiamo dare anche una visione di cambiamento in positivo, in cui ci sia anche, appunto, per un giovane, la possibilità di immaginare una città in cui vivere, in cui magari possa trovare un alloggio a prezzo accessibile, in un quartiere in cui non si debba avere bisogno dell'auto e quell'auto magari è parcheggiata sotto casa, con sotto casa, appunto, una distesa di asfalto che ti fa vivere in maniera terribile in questi mesi estivi. Insomma, metterci noi, oltre a questi numeri, a queste proposte, anche un messaggio di speranza. Grazie.